Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Parliamo del campionato di serie D, si è giocata la quattordicesima d'andata, vediamo i risultati. Castelfidardo Chieti 1-0, Celano Fermana 0-2, Civitanovese Amidiannina 4-1, Fano San Nicolò 2-0, Giulianova Pesaro 1-0, Agnonese Campobasso 0-2, Re Canatese Maceratese 1-1, San Benedettese Matelica 2-0, Termoli Iesina 0-4. In testa alla classifica rimane la Maceratese 32, Civitanovese 30, Fano 28, San Benedettese 27, Campobasso 26, Matelica 25, Iesina 22, Chieti 20, Giulianova 19, San Nicolò e Amidiannina 18, Fermana 15, Re Canatese 14, Castelfidardo 13, Olimpio Agnonese 10, Pesaro 9, Celano e Termoli 8. I gol di Lazzarini e Todino hanno regalato il derby del Civitelle al Campobasso, tra tante polemiche perché in realtà il primo gol del Campobasso era da annullare. Il Campobasso espugna con un gol per tempo il Civitelle di Agnone, derby combattuto, Granata da subito aggressivi, segna il lupo ma c'è un braccio di Scudieri, Olimpia, Maidoma ma ci pensa Todino a chiudere la contesa. Bella giornata di sport, si gioca di fronte a circa 1500 spettatori di cui 500 dal capoluogo a incitare il Campobasso. Dopo qualche secondo un po' di incertezza nella difesa rosso-blu, l'azione Granata termina con il tiro di Carpentino e la risposta di Maggi. Inizio sprint dei Granata in maglia bianca, la risposta rosso-blu è al nono, tutta in questo diagonale di Todino bloccato a terra da Biasella. La pioggia è insistente, il sintetico si fa abbastanza scivoloso, Donatelli incita i suoi a essere aggressivi sul portatore di palla Campobassano. Il Campobasso passa alla seconda occasione al ventunesimo sugli sviluppi di un angolo, la palla è alzata da Nicolai, da Minadeo perviene all'arresto con il braccio di Scudieri che conclude, Biasella fa il miracolo ma non può nulla sul tapin vincente di Lazzarini. Un episodio molto controverso che scatena le vibrate proteste del Civitelle, la terna comandata dal signor Cascella considera regolare l'accaduto. Subito dopo il gol del Campobasso, Donatelli è costretto a fare uscire Carpentino per inserire per rotta, cambio dettato da motivi fisici. Al ventottesimo il traversone di Rolli diventa un tiro che Maggi è bravo ad alzare sopra la traversa. Al trentunesimo percussione a destra di Di Lullo, Maggi chiude bene all'altezza del primo palo. L'Olimpia disputa una partita a Gagliarda, la gara tuttavia non vede un avversario sovrastare l'altro quanto a gioco. Al quarantaduesimo il pallonetto di testa da parte di Rolli si spegne sul fondo. Al quarantaquattresimo dal sinistro scoccato da Nicolai la palla urta di Gennaro ma poi è preda di Biasella. Un solo minuto di recupero nel corso dell'intervallo premiata la signora Litterio come tifosa mai assente alle gare dell'Olimpia mentre il Campobasso conferisce una targa ricordo da consegnare ai fratelli Marano assenti ad Agnone. Dal primo della ripresa Donatelli fa entrare Petrone in luogo di Litterio. Al terzo punizione di Cantoro, sull'altro palo c'è il colpo di testa di Santoro ma la palla esce sul fondo. Farina comanda il riscaldamento di tutti i panchinari. Al dodicesimo la conclusione di Di Gennaro è bloccata a terra dal portiere Granata. Donatelli chiude i cambi con Catalano al posto di Santoro al sedicesimo. Al diciannovesimo testata centrale di Di Lullo. La palla scorre fuori subito dopo. L'autore del gol, Lazzarini, lascia il posto a Miani. L'Agnone stringe i tempi. Al ventesimo il sinistro di Cantoro è deviato in angolo da Maggi. I lupi custodiscono gelosamente il gol maturato nel primo tempo e tentano di affidarsi a delle ripartenze. Al ventunesimo l'Agnone chiede un rigore per un contatto tra Scudiere e Di Lullo ma per l'arbitro non c'è nulla di irregolare. Qualche secondo dopo pallone di Catalano devianto benissimo in angolo da Maggi. Ancora un minuto deve passare per il palo defilato di Petrone. I Granata a questo punto meriterebbero di pareggiare mentre i lupi al venticinquesimo potrebbero chiudere ma Biasella è semplicemente straordinario sulla punizione di Minadeo. Mezz'ora esatta per la girata in area di Todino. Troppo debole, abbrancata da Biasella. A dieci dalla fine il Campobasso sbriga la pratica con Todino che se ne va davanti a Biasella in posizione corretta a dire della terna arbitrale e realizza il gol del 2-0. Terzo gol stagionale per Todino abbracciato da tifosi rosso-blu presenti al Civitelle. Subito dopo l'autore del gol del 2-0 lascia il posto a Pignataro. Al novantesimo punizione indiretta in favore dell'Agnone perché a dire del direttore di gara Maggi avrebbe trattenuto troppo il pallone. Batte Cantoro che va contro la barriera e il tiro buono potrebbe essere quello di Petrone ma si infrange contro la traversa. Farina chiude i cambi con Giovannisci per Cianci. A uno dalla fine Rolli commette fallo proprio su Giovannisci e viene espulso direttamente. I punti al Campobasso. L'onore per un'ottima partita alla squadra di Donatello. In Alto Molise si è onorato lo sport. Poker della Iesina al Cannarza. I giallorossi in questo momento chiudono la classifica. Un Termoli ancora imbottito di giovani costretto a cedere le armi in casa. Lo fa cedendo alla lanciata Iesina che passa al Gino Cannarza addirittura con un poker. 4-0. Nulla da fare per la compagine giallorossa in gara. Per più di un'ora tiene testa alta la formazione di mister Casu che riesce in qualche modo a mantenere il ritmo partita per oltre un'ora. Poi crolla sotto i colpi della compagine. Sicuramente più esperta marchigiana. Pronti via. E il Termoli che non riesce a sfruttare il regalo dopo tre minuti con Santoro che arriva con un pizzico di ritardo sul retropassaggio della retroguardia marchigiana. Subito velocissima la squadra Iesina che si fa vedere con questo affondo al sesto minuto da parte di Trudo con la palla che termina sul palo. Torna in campo e poi la retroguardia del Termoli con Natale. In qualche modo riescono a sventare la minaccia. Cerca soprattutto la squadra ospite. Qui il tentativo in girata da parte del centroavanti. Traini e Natali è lì prontissimo a dir di no alla conclusione. Cresce il Termoli che sale in cratte. Si vede subito Santoro. Qui la conclusione deviata che termina abbondantemente sul fondo. Più tardi ci proverà un attimo. Più tardi anche Galliano. Poi questo lancio in profondità. Non c'è il fuorigioco. Viene tenuto in riga Santoro dalla retroguardia della Iesina. Vedono però il contrario. Vede il contrario la terna arbitrale sul capovolgimento di fronte. Trudo fa secco Natale. Agira completamente la retroguardia giovanissima del Termoli. In diagonale trafigge il portiere Reatino per il gol. Quello che dà il vantaggio è da parte della sicurezza. Alla compagine marchigiana il Termoli. Si fa vedere con il tentativo di dispoto che gira di testa. Il solito calcio piazzato di Caprioli con la palla e termina sul fondo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. La formazione giallorossa mantiene sicuramente a testa alla squadra marchigiana. Che si fa subito vedere dopo sei minuti con questo lungo lancio in profondità. Retropassaggio di dispoto arriva sul pallone Traini che gira in mezzo il pallone. La penna in qualche modo riesce con il sinistro ad allontanare la minaccia che era più che seria. Ancora la Iesina. Il cross lungo perfetto da parte di Brighi. Palla allontanata. Pallone che viene rimesso in mezzo. Trudo che assiste la conclusione in corsa da parte di Ambrogi. Sulla linea questa volta è Arbotti a dirgli no alla conclusione della formazione Iesina. Il Termoli è in gara però Santoro riesce a duellare benissimo con Mattia. E poi va a offrire un pallone su un piatto d'argento a Fulvio. La conclusione in corsa dello Juniors. Con la palla incredibilmente sul fondo. E come spesso accade nel calcio. Da gol mangiato a gol subito. Minuto numero 20. La costruzione dalla sinistra per il pallone che arriva in area di rigore. Fa quello che può l'estremo difensore del Termoli Natali. Però Tittarelli da poco in campo. Si rileva ancora di più giustiziere del Termoli. Con il piattone vincente va realizzare il gol del 2-0. Sale in cattedra alla formazione marchigiana. Con un Trudo in più. Il Colored se ne va sulla destra. Salta Galliano. Arriva sul fondo. Mette in mezzo un pallone. Il rientrante di Tittarelli. Arriva in corsa con il pallone scarica in rete. Nella selva di gambe della retroguardia del Termoli. Il gol del 3-0. Quello che dà la sicurezza praticamente alla formazione. Iesina crolla la squadra termolese sotto i colpi della compagine marchigiana. E qui il piattone vincente in corso è di Traini. La palla che colpisce la parte alta. E poi ricade in terra del rettangolo di gioco. L'assistente segnala il gol per la compagine della Iesina. Però le immagini testimoniano che il pallone non ha assolutamente varcato alla linea di porta. Ha regalato il 4-0 alla Iesina. Finisce così al Gino Cannarsa. Con i marchigiani che spugnano con un poker il rettangolo del Gino Cannarsa. Basket e divisione nazionale B. Il derby tra Venafro e Globo Iserni è andato ai padroni di casa. 81-72 il finale. In C regionale rinviata la gara tra NBC e Torres Spess. Successo invece per il Termoli. Che in trasferta ha superato il Teramo 58-51. Torneo d'eccellenza. Vediamo le partite della tredicesima giornata d'andata. Vairano, Montaquila 2-2, Casalnuovo, Venafro 1-4, Riccia, Fornelli 4-3, Rocca, Ravindola, Cliternina 3-0, Roseto, Vastogiratti 1-4, Sesto Campano, Gioventù Dauna 0-0, Matese, Iserni a 0-1, Santeliana, Gambatesa 2-3. In testa alla classifica rimane la Gioventù Dauna con 35 punti. Un solo punto di vantaggio sull'Iserni a 34. Vastogiratti 29, Vairano 23, Rocca, Ravindola e Sesto Campano 22, Venafro 20, Matese 19, Riccia e Gambatesa 18, Montaquila 14, Casalnuovo 12, Fornelli 11, Cliternina 9, Santeliana 6, Roseto 4. Al Poce di Riccia il Festival del Goal è finita 4-3 in favore dei padroni di casa. Partita dalle due volti, quella del Poce valida per la tredicesima giornata del torneo di eccellenza tra l'Olimpia Riccia e il Fornelli con i padroni di casa che nel primo tempo realizzano quattro gol mentre il Fornelli tenta nella ripresa la clamorosa rimonta che non riesce. La partita finisce 4-3 per i padroni di casa. Partono forti gli ospiti però che al sesto minuto, cross di Zaccaro, palla sui piedi di Ciccia che tira, Viscusi para, ancora Ciccia che però manda alta la seconda conclusione. Al decimo minuto, altra opportunità per il Fornelli, palla lunga per Cerasuolo che entra in area di rigore, scarica il destro, Viscusi salva. Al tredicesimo si fanno vedere anche i padroni di casa, cross di Cappelletti sulla testa di Del Zingaro che però non inquadra la porta. Al ventesimo, 1-2 incredibile dell'Olimpia Riccia. Prima Cappelletti, ben imbucato da Vinci Guerra, si presenta di fronte a Fiorillo e realizza l'1-0. Palla al centro, batte il Fornelli che perde palla, altra palla dentro per Cappelletti che evita un intervento. Tira, Fiorillo è bravissimo a parare, palla a Vinci Guerra che tira ancora ma fa rocco sulla linea di testa salva. La palla finisce sui piedi di Del Zingaro che questa volta non sbaglia e realizza il 2-0. Al trentaduesimo accorcia le distanze il Fornelli De Clemente, tira una botta incredibile dalla tre quarti, deviazione, la palla si insacca sotto la traversa, 2-1. Passano 30 secondi, Del Riccia realizza il 3-1. Schema da calcio di punizione, Paolo Antonio serve Vinci Guerra che tira dal limite ed insacca il 3-1. Al trentottesimo arriva anche il quarto gol per il Riccia, ancora Vinci Guerra servito da Del Zingaro, entra in area di rigore e beffa Fiorillo in uscita. Passiamo alla ripresa con le immagini montate da Andrea Fatica con il Fornelli che si butta in avanti a caccia della rimonta, che sembra impossibile visto che al ventesimo minuto Del Zingaro va vicino al gol, saltando il portiere con un lobby in area di rigore. Ma Pirone, ben apposato sulla linea di porta, salva e manda in angolo. 30 secondi ed il Fornelli realizza, cross dalla sinistra, palla sulla testa di Zaccaro, Viscusi sbaglia l'uscita ed il pallone si insacca, 4-2. Al trentunesimo il Fornelli accorce ulteriormente, palla in area per Pedrozzi che salta un uomo e realizza il 4-3 con il destro. Al trentottesimo il Fornelli chiede il penalty, errore della difesa, la palla arriva a Cicia, Ruggero interviene in scivolata, Cicia va a terra, per Giovanni di Termoli si può continuare. Al quarantunesimo ultima occasione per i padroni di casa, con Vinci Guerra che scarica il destro da tre quarti, sulla quale è bravo Giuliano a deviare in calcio d'angolo. Dopo quattro minuti di recupero, Giovanni di Termoli dice che la partita può finire qui, l'Olimpia Riccia batte il Fornelli 4-3. La telecronaca di Riccia a Fornelli andrà in onda oggi alle 17 su Telemolise 2, canale 12, alle 22 su Telemolise Sport, canale 112, mentre solo su Telemolise Sport alle 15.30 e alle 20.30 verrà trasmessa la gara di calcio a 5 di Serie C1 tra Campo Bassofut, Salle e Sant'Elena. Secco 3-0 del Roccaravindola contro la Cliternina. Sul proprio manto erboso, il Roccaravindola di mister Paolo Iannarelli disputa la tredicesima giornata del campionato di eccellenza. I blucerchiati si impongono con un secco 3-0 ai danni della sfortunata Cliternina. Padroni di casa che scendono in cappo con delle maglie speciali per l'iniziativa della Teleton organizzata dalla BNL di Isernia. Ma andiamo alla cronaca di questi bellissimi 90 minuti di gioco. A rompere il ghiaccio sono gli ospiti al 14esimo con la punizione di Aurelio che però va solo al lato del palo. Al ventesimo arriva subito il vantaggio blucerchiato, galoppata di rega che arriva tu per tu con il portiere avversario. Serve Iameo che tutto solo deve solo insaccare il gol. Pochi minuti dopo, triangolo perfetto tra rega, grossi e Iameo, quest'ultimo che fredda Melfi per il 2-0 di casa. Al 34esimo segni di risvegli della Cliternina con la conclusione di Gabrielli che sbatte clamorosamente sul palo. Ma al 41esimo, mai consisti con un'azione personale strebitosa, va ad insaccare il trisblu cerchiato che chiude così il primo tempo. E con le immagini di Giancarlo Bustelli passiamo alla ripresa. Undicesimo minuto di gioco si vede Riella per gli ospiti, alla ricerca di accorciare lo svantaggio, ma palla che passa solo a fil di palo. Pochi minuti dopo viene anche espulso mister Anzivino della Cliternina per eccessive proteste all'indirizzo del direttore di gara, il signor lustrato della sezione di Campopasso. Al 32esimo ancora gli ospiti con la punizione di Riella, ma da guanno mette in corne. Due giri di lancette dopo viene annullato un gol alla Cliternina, Aurelio per Di Marco che insacca la rita avversaria, ma il guardalinea segnale il dubbio fuorigioco di Di Marco. Al 48esimo il nuovo entrato Grazia Plena ci regala questa conclusione che dà l'impressione del gol, ma sfiora solo il palo. E registriamo anche l'espulsione di Di Vito per fallo su Costantino. Termina così il match. Rocca Ravindola che aggancia il quinto posto a quota 22 punti e rivela il fatto che i blu cerchiati stanno davvero disputando un ottimo campionato, considerando l'obiettivo principale che era la salvezza in categoria. Cliternina ancora non riesce ad uscire dal suo periodo nero. Coppa Italia mercoledì, gara di andata delle semifinali. Il Riccio ospiterà la Gioventù Down, a Lisernia il Treppini. Adesso vediamo le partite invece che si sono disputate nel campionato di promozione. Alife Torremagliano 2-1, Campo di Pietra Montenero 0-0, Castelmauro San Martino 4-2, Petacciato Vinchiaturo 0-2, Cerce Maggiore Frentania 3-2, Real Prata Macchia 0-3, Ripalimosani Toro 1-1, Spinete Pietra Montecorvino 0-2. In testa alla classifica troviamo Macchia, Pietra Montecorvino, Campo di Pietra 26, Spinete 24, Montenero 23, Alife 21, San Martino Petacciato 20, Prata 18, Castelmauro 16, Cerce Maggiore 15, Vinchiaturo 13, Torremagliano e Frentania 12, Toro 11, Ripalimosani 6. E' terminato a rete inviolate l'incontro tra Campo di Pietra e Montenero. Termina 0-0 il big match di giornata tra Campo di Pietra e Montenero. E' stata una partita equilibrata da due squadre che si sono dati filo da torcere per tutti i 90 minuti, ma alla fine possiamo dire che il risultato di parità è il più giusto. Montenero che fa la partita mentre il Campo di Pietra prova a difendersi e a ripartire in contropiede. I primi 15 minuti sono a pannaggio della formazione adriatica che dopo ben 47 secondi ha un'occasione clamorosa con Di Vito che si trova tutto solo in area di rigore, vince un rimpallo e tira fuori da ottima posizione. Al secondo occasione ancora più clamorosa per Travaglini che sfrutta un buco centrale della difesa di casa, diagonale dell'ex Termoli e palla che colpisce in pieno il palo. Sul susseguente calcio d'angolo, colpo di testa di Mario Longo e palla che termina sull'esterno della rete. Al dodicesimo episodio da Moviola con Pezzotta che mette una palla al centro, Mucci si in ginocchia come fece Maradona contro la Sampdoria nell'86, segna ma per il direttore di gara e per il collaboratore di Lina è fuori gioco l'attaccante ex Real Termoli. Per la prima volta il Campo di Pietra seguite al diciottesimo, Cretella in becca amarro, gran tiro del giocatore della squadra di casa con una palla che termina fuori. Al trentunesimo palla che ballonzola in area, diagonale di Di Vito con Fratangelo che viene colto in controtempo ma il pallone termina di pochissimo al lato. Al quarantaduesimo altra buona chance per il Montenero, cross di Tracchia, Mucci stacca molto bene di testa ma Fratangelo si rifugia in calcio d'angolo. Nella ripresa non succede molto con il Montenero che prova a fare la partita, all'ottavo mischia in area di rigore, Fratangelo esce di pugno, gran tiro di Pezzotta e Bredice salva quasi sulla linea di porta. All'undicesimo altra buona azione con Travaglini che va via sulla destra, grande percussione, palla al centro, Mucci tocca la sfera ma alla fine Fratangelo riesce a parare. Dall'undicesimo alla mezz'ora non accade più nulla, si combatte tanto a centrocampo ma di emozioni non ce ne sono. Gli ultimi 15 minuti sono a favore del campo di Petra. Al trentesimo gran tiro di Tripodi da 30 metri con una palla che termina di poco a lato. Al trentaduesimo su un calcio d'angolo Cefaratti riesce a truccare il pallone ma la sfera viene salvata quasi sulla linea dalla difesa ospite. L'ultima chance, la più importante, ce l'ha sempre il campo di Petra. Al minuto numero 38 Tripodi va sul fondo, mette al centro una gran palla, colpo di testa di Magnotta e miracolo di Ribello che sventa il pericolo. Termina in questo modo il match tra Campo di Pietra e Montenero 0 a 0, un punto che fa bene a entrambe le squadre. Con la vittoria a Spinete il Pietra Montecorvino condivide la vetta della classifica come abbiamo visto con Macchia e Campo di Pietra. La tredicesima giornata di promozione tra Spinete e Pietra Montecorvino termina sul risultato di 0 a 2. A dirigere l'incontro il signor Gianmarco Meo di Isernia. Lo Spinete prova fin da subito a sbloccare il risultato all'ottavo minuto con un disimpegno sbagliato di Marino. Prova ad approfittarne gli anni Rubberto ma Perna esce con i pugni. Al ventunesimo palla che arriva Colalillo che prova la botta a mala traverse ed il guantone di Perna dicono no allo Spinete che riprova a sbloccare il risultato dopo 4 minuti con un calcio di punizione di Polzella e sinistro deviato in angolo dai pugni di Perna. Ci riprova sempre Polzella al 33esimo su calcio di punizione in mezzo per Minotti. Si oppone Perna di pugni poi è lì Gianfagna che però non inquadra lo specchio. Un minuto dopo arriva la beffa con il gol ospite. Calcio d'angolo di Alberto Marino al centro per Papa che va a realizzare la rete dell'1-0. Il vantaggio dei rossoneri non demoralizza lo Spinete che continua a fare la partita ma quello che accade al 43esimo spiega quanto si è stregata la porta difesa da Perna. Ci prova infatti per primo Romano che tutto solo si accentra fa fuori l'uomo e conclusione murata dall'estremo difensore ospite. raccoglie Tedeschi e questa volta a dire no è la traversa ma non finisce qui perché la palla resta in campo ed è Gianfagna che alla fine si fa murare ancora una volta da Perna. Ultima azione al 45esimo sempre con lo Spinete in attacco Tedeschi dalla sinistra per Colalillo in aria. Una finta sull'avversario e tiro che sfiora il palo. Nella ripresa lo scenario non cambia è sempre lo Spinete ad attaccare. Al 26esimo punizione di Polsella sul secondo palo e colpo di testa di Gianfagna mandato in corner da Perna. Al 33esimo arriva il raddoppio del Pietramonte Corvino, calcio di punizione di Carusiello sul secondo palo e gol di mezza rovesciata di Palmieri per il 2-0. La rete degli avversari mette in ginocchio lo Spinete dopo una partita intera in attacco. Al 41esimo Papa per Damore che in trenare conclusione parata dal guantone di sedile. Al 45esimo Pietramonte Corvino in 10 uomini per l'espulsione di Carusiello per doppia munizione. Episodio che però non cambia le sorti del match che termina con tre punti per la formazione di Maiellaro che permettono di andare ad un punto dalla capolista Campo di Pietra. Per lo Spinete resta Lamaro in bocca per una bella prestazione non concretizzata però con la vittoria. Successo in casa per il Castel Mauro. I ragazzi di Esposito hanno superato il San Martino. Pioggia e non solo in senso atmosferico di gol ben sei ed emozioni a Castel Mauro con i padroni di casa che piegano il rialza a Martino per 4-2. Il terreno di gioco è allentato ma come vedremo lo spettacolo non ne risentirà affatto. Il primo tentativo è di Minotti di testa al terzo minuto ma la palla finisce a lato. Sul capovolgimento di fronte però è il Castel Mauro a passare. Angolo dalla destra incornata di Alberto Dionisio e 1-0 per i ragazzi del Neomister Esposito subentrato a Minna negli ultimi giorni. Il rialza a Martino ci mette un po' a riorganizzarsi. Al ventesimo è abiuso a provarci dalla distanza ma il suo tiro viene sporcato in angolo. Sul corner successivo Alberto a staccare ma la palla termina alta. Si ribalta il fronte e il Castel Mauro prova a far male con l'affondo in velocità a Dimitri ma Sassano si rifugia in angolo. Al trentaseiesimo è Antonacci a sfiorare la traversa e il pareggio sul calcio piazzato facendo correre un brivido sulla schiena del portiere Abate. Il Castel Mauro commette però l'errore di arretrare troppo il baricentro e Minotti ne approfitta al quarantunesimo chiudendo al meglio un'azione insistita in aria con la palla che tocca la traversa e rimbalza oltre alla linea di porta. Nella ripresa prosegue il Minotti Show. L'attaccante adriatico lanciato a rete super Abate con un tocco sotto per il 2 a 1 che sancisce la rimonta del Real San Martino. Il Castel Mauro accusa il colpo e reagisce solo al venticinquesimo con Gian Domenico Dionisio che impegna Sassano che deve in angolo la sua conclusione. A questo punto mister Esposito misca le carte e pesca ben due gioli dalla panchina. Prima Antonucci che è entrato da una manciata di secondi va ad insaccare di testa sul calcio d'angolo per il 2 a 2 e poi è Luciano a salire in cattedra. Prima si procura un rigore al quarantesimo dopo il fallo subito da Alberto che si becca anche il russo. Sul dischetto va Coppola e fa 3 a 2 e poi compie una magia dalla distanza con un pallonetto che si infila alle spalle di un sorpreso Sassano per il 4 a 2 finale. Dunque tre punti d'oro per il Castel Mauro che puntella la sua classifica e battuta d'arresto per il Real San Martino che deve rivedere qualcosa se vuole ambire ad un posto al sole in zona playoff. Palla a volo di cadetteria K.O. in casa del Napoli per l'Isernia 3 a 0 il finale per la palla a volo sconfitte le due molisane. L'Isernia 3 a 0 contro il Leverano. L'Agnone 3 a 1 in casa del Nola. Sempre per il volley doppia vittoria per la società del presidente Niro in prima divisione. La squadra maschile ha battuto con un netto 3 a 0 la Fenice Isernia mentre la femminile ha superato l'F Sport Isernia per 3 a 1. Calcio a 5 di Serie B successo per l'Isernia che ha ospitato il Manfredonia. Sul parchè del proprio Palasport l'Isernia Calcio a 5 affronta il Manfredonia per l'undicesimo atto del campionato di Serie B. A dirigere l'incontro la terna composta dai signori Turano, Misa e Del Rosso. Ma ci mentiamoci nella cronaca. I primi minuti vedono protagonisti bianco-celesti. In particolare Potena che addirittura colpisce per due volte il palo nel giro di soli 5 minuti subendo così un vero e proprio affronto della sfortuna. Ma il vantaggio è solo rimandato. Infatti di lì a poco ci pensa il nuovo acquisto Lemme ad insaccare l'1 a 0 e a far esplodere l'intero palazzetto. Il Manfredonia esce dal guscio ma la conclusione del numero 7 Spano sorvola la traversa. Ma l'Isernia si rifà sotto e con grande carattere trova il raddoppio questa volta a gonfiare la rete e Capitan degli Carpini con una cannonata da fuori area. Continuiamo ad annotare iniziative isernine. Questa volta lo sfortunato di turno è Nerin che colpisce il legno. Tuttavia allo scadere del primo tempo i pugliesi accorciano le distanze con il gol di Galli Nanes. Durante l'intervallo alcuni dipendenti di un'azienda di dolciumi Isernina in veste di Babbo Natale distribuiscono il cioccolato ai numerosi bambini presenti sugli spalti del Palasport a seguito di un'iniziativa che ha coinvolto la società Pentra e questa azienda. Ma passiamo alla ripresa dove Laurenza impegna subito il portiere avversario con questo destro insidioso. Ma sul capovolgimento di fronte il Manfredonia perviene al pareggio con la doppietta personale di Galli Nanes che sigla così il 2 a 2. Ma quest'ultimo rimedia anche un'espulsione qualche istante dopo lasciando così i suoi con un uomo in meno. Gli uomini di Cataneo sfruttano al meglio la superiorità numerica e vanno a segno con Laurenza con la rete del 3 a 2. Lo stesso Laurenza cala il poker qualche minuto più tardi sfruttando l'assist al bacio di Potena. Si archivia così il match. Sesta vittoria stagionale per l'Isernia che vola così a quota 18 superando proprio i diretti avversari in graduatoria. Il Manfredonia che è in attesa di rinforzi in settimana deve lavorare per preparare al meglio la sfida casalinga contro il Modugno. Adesso vediamo i risultati di prima categoria. Girone A, Mignano Pesche 3 a 0, Pizzone Roccasicura 1 a 3, Carpinone Carullo 3 a 0, Colli Sestolese 2 a 3, Rufre Conca Casale 2 a 2, Pozzilli Forulum 3 a 2, Riposato Matese. In vetta troviamo Roccasicura 23, Carpinone 20, Sestolese Pesche 19. Andiamo a vedere i risultati del girone B. Ielsi Volturino 4 a 0, Baranello Boiano 5 a 1, Carlantino Cerce Maggiore 4 a 1, Civitanova Mirabello 2 a 1, Doinkes 3 a 3, Gildone Murgansia 1 a 0, Arriposato Fossaltese. In vetta Ielsi 25, Trearchi 24, Baranello 23, Civitanova 21, Gildone 20. Girone C, Chieuti Acli 3 a 0, Fiamma Portocannone 1 a 2, Larino Petacciatese 4 a 1, Lupetti Molise 8 a 1, Quartiere Nord Campobasso Calcio 3 a 0, San Felice Sant'Angelo 0 a 0, Ururi Campomarino 2 a 3, Arriposato Colletorto. Qui in vetta troviamo Campomarino 24, Cuglionesi 23, Chieuti 22, Ururi 21, poi Quartiere Nord 19. Vi ricordo l'appuntamento con Molise a Calci, questa sera alle ore 21, insieme a Gianni Bruno e Tabita Morgese, ospiti, commenti, opinioni e la nostra attesissima Moviola. Molise a Calci alle 21, questa sera su Tele Molise. È tutto, buon pomeriggio.